Ce l'abbiamo un po' per lasciare. Prima di salutarvi voglio ringraziarvi ancora una volta per essere venuti e voglio rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questa manifestazione, quindi gli amici della società del Traforo, gli amici del Celtic Road MC, il Motoclub Montebianco di Morce e tutti gli altri che comunque hanno collaborato e che continuano a collaborare con noi. A tutti quanti ancora grazie. L'ultima cosa che vi posso dire è che come motociclista avere tanti fratelli mi fa sentire bene. So che non sarò mai solo sulla strada e credo che sia così anche per voi. Grazie ancora.